Una grande gara a Carpi nell'ultimo turno, oggi una buona partita, però del grosso vogliamo raccontare cosa è successo in occasione del gol del Verona, perché eri tu a marcare Faraoni in area? Io non lo so, devo rivederlo perché mi sembrava di stare da solo in area, poi c'era Gas dietro di me, quindi il giocatore si è messo nelle mie spalle e davanti a Gas. E' stato bravo lui e io sinceramente credevo fossi davvero solo, quindi ho aspettato quella palla per impattarla e lui mi ha anticipato. Adesso è un punto importante, Cristiano, in chiave playoff, perché a questo punto l'obiettivo è quello di giocare la prima partita in casa, quinto o sesto posto, tenere dietro il Verona comunque un risultato positivo. Sì, sì, è un risultato positivo, è chiaro che volevamo a tutti i costi la vittoria, non l'abbiamo trovata, comunque siamo consapevoli che abbiamo affrontato una grande squadra. Quindi ci prendiamo il punticino, abbiamo espresso comunque una grande gara oggi, primo caldo, magari una leggera flessione ci sta e poi quanto concedi comunque a dei giocatori del genere un pochino c'è il rischio che in qualsiasi frazione di gioco possano riaprirla. E così è stato, però adesso stare tanto al pensare al sé non esiste, abbiamo due settimane, chiudiamo questa pratica dei playoff e poi spero ci divertiamo. Questa squadra però manca, Cristiano, in continuità a Carpi, avevate giocato Maluccio il primo tempo, sicuramente meglio la ripresa, oggi avevate iniziato bene, poi avete subito anche pesantemente gli attacchi del Verona con Fiorillo autore di quattro parate decisive e poi nel finale siete tornati ad avere anche le occasioni per vincere questa partita. Come mai anche oggi con il Verona la squadra non è riuscita ad essere continua? Perché le partite non sono tutte uguali, non hai il Carpi, hai avuto il Carpi e oggi avevi il Verona. Questa è la risposta secondo me più efficace. Cristiano, guardando a quello che è stato il primo tempo, pronti via, atteggiamento giusto, poi il Verona ha preso campo, nel finale potevate vincerla. Tu che sei stato in campo per 90 minuti ti chiedo, sei contento per il punto che è sostanzialmente blinde playoff o sei un po' arrabbiato? Il Presidente è un po' arrabbiato per l'atteggiamento? No, no, non è tanto l'atteggiamento. Il Presidente ha detto che abbiamo messo un pullman davanti alla porta. No, 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 io sono amareggiato, ecco, a parte io purtroppo sono fatto così, ma come tutti i miei compagni volevamo vincere anche per il contesto che c'era oggi. Bella giornata, 10.000 persone allo stadio contro il Verona, che oggi era una partita che poteva essere la vittoria perfetta, cioè capite, a livello di motivazioni, ecco. Non è stato così, però l'abbiamo lottato fino alla fine e ripeto, oggi avevi il Verona. Quindi un punto te lo prendi e ricominci, tanto che devi fare, stare a parlare di quello che potevamo fare adesso non serve. Allora parliamo di quello che sarà questo finale di campionato perché il primo maggio ci sarà un turno di riposo. Il Pescara non giocherà, le altre giocheranno, potrebbe cambiare anche se forse di poco la classifica. E poi Cristiano ci saranno due partite complicate, la prima a Venezia contro una squadra in piena zona play-out, la seconda, l'ultima, della stagione con una salernitana che classifica oggi alla mano, non è assolutamente salva ancora. Sì, sì, ma questa è la Serie B. Noi sappiamo che fino alla fine dobbiamo stare lì, dobbiamo stare sul pezzo, cercare di prendere il miglior piazzamento possibile ai play-off, però non è facile, adesso ti devi ripreparare bene perché c'è una trasferta lunga, importante, perché comunque vale tre punti e poi cerchiamo di chiuderla in casa con una vittoria, speriamo. Però ripeto, adesso archiviamo questa partita, io sono contento, da una parte amareggiato, ma perché magari nel gol potevo, non lo so, è una cosa mia personale, quindi adesso mi se ne passerà. Però un po' amareggiato lo sono perché volevo una vittoria oggi. Allora, chiudiamo con un'analisi dell'ultimo mese tuo Cristiano, perché dopo che hai avuto il problema a Salerno alla Caviglia ci hai messo un po' a tornare, ma quando sei tornato anche Pillon ne lo ha detto, hai dato grandi garanzie, hai fatto un mese super. Qual è un po' il segreto di Cristiano del Grosso? Non c'è nessun segreto, io credo che la mia carriera è stata un po' così, stare sempre lì sul pezzo, allenarmi sempre bene e cercare poi di riportare la domenica l'impegno e il sudore. Io comunque sono un giocatore che vive di queste cose e ha costruito una carriera su queste cose qui. Chiaramente quando non sto bene faccio fatica, ho 36 anni e quindi non nascondo che se non mi alleno due giorni la domenica non rendo. Questo mese mi sono allenato tutti i giorni, è chiaro che la condizione insieme a un po' l'esperienza mi aiuta e posso ancora dire la mia.